La vicenda della centrale del Mercure di Laino Borgo arriva ai vertici di Enel. I sindaci dei comuni di Rotonda, Rocco Brun, Vigianello, Vincenzo Corraro, dopo le battaglie legali e in attesa della decisione del governo Renzi circa l'attivazione della centrale a biomasse, si affidano direttamente alla presidente del colosso energetico Maria Letizia Grieco e all'amministratore delegato Francesco Starace. Vi contattiamo, scrivono i due sindaci in una lettera recapitata anche agli organi di stampa, per palesarvi quelli che sono i reali interessi della nostra valle e per mettervi a conoscenza di dettagli che potrebbero non avervi segnalato. Rocco e Corraro, nello specifico, scrivono a Grieco e Starace gli ultimi aggiornamenti che riguardano la storia della centrale. Innanzitutto la mancanza di una valutazione di impatto sulla salute, come ribadito dall'Ordine dei Medici della provincia di Potenza. Una falla spiegano che ci invita a esaminare i reali rischi che corrono gli abitanti della valle. I rappresentanti del fronte del NO invitano inoltre Presidente e AD di Enel a riflettere sugli interessi che girano intorno alla centrale. I fornitori principali, se non unici delle biomasse, secondo quanto scrivono i sindaci nella lettera, sarebbero infatti coinvolti in attività illecite e addirittura già segnalati dalle autorità giudiziarie quali soggetti di provvedimenti inibitori per la loro attività e le loro frequentazioni nell'ambito della criminalità organizzata. Una collaborazione quella tra Enel e questi fornitori allertano i sindaci che potrebbe anche minare il codice etico dell'azienda energetica e che comunque troverà sempre la ferma opposizione degli abitanti della valle. La lettera si chiude con la richiesta di rinuncia alla riattivazione della centrale oltre all'invito alle due massime cariche di Enel a visitare la valle del Mercure e la zona del Pollino per rendersi conto direttamente dell'incompatibilità tra il territorio e la centrale.